Bella raga, oggi vi farò vedere un glitch delle trappole che sarebbe questo qui del deposito E' molto carino e come si fa? Ora lo facciamo insieme raga Bene, distruggiamo tutto E ve lo faccio rivedere raga Come si fa questo glitch delle trappole Allora, rompete tutto, rompete tutto Poi fate tutti i pavimenti così Editate la piramide così E niente raga Fate così Allora Fate tutte le piramide e il pavimento Così ragazzi Poi le editate tutte in sto modo E raga fate così E raga, ecco qua il bug del deposito Poi continuerete facendo così Continuerete, continuerete raga Fino a quando arrivate agli angoli Agli angoli cosa potete fare? Agli angoli fate semplicemente Fate come prima Raga Verrà un po' malino Verrà un po' maluccio Però raga è così si fa Verrà un po' male agli angoli Non è fake Non è fake questo glitch raga Niente Poi continuate Tutto così Tutto così Raga Piano piano finirete Lo potete fare con tutte le trappole a pavimento che volete Escluse queste Queste qui non si può fare Guardate Vedete? Con questo raga non si può fare proprio Si può fare solo con le trappole a pavimento Eccoci qui Raga Voi avete il bug delle trappole E niente raga Noi ci vediamo al prossimo video E come sempre raga Lasciate like Un bel commento Iscrivetevi al canale E ciao raga